Eccomi qua, questo è il fuoco, simbolo di vita, una volta si accendevano i fuochi con così si faceva legna per scaldarsi alla mattina. Sono sette e mezza di mattina, devo ancora andare a lavorare, fuori piove e lavorerò in serra. Parliamo della Palestina, la Palestina sta subendo una punizione che non merita. Quindi chiedo ancora che si concluda questa stagione, ci sia pace in Palestina. Poi, mi appelli, il 26 gennaio sarà il mio compleanno, sarà il giorno di Dario Di Siglioli e sarà il giorno in cui a Casa del Popolo c'è uno spettacolo teatrale. Andate, andate in tanti, divertitevi e soprattutto fate cultura, perché in pieno c'è bisogno di cultura, come la riapertura del teatro Cavour. Grazie, arrivederci e buona giornata e buon lavoro a tutti. Io spero di uscire a lavorare, ma fuori piove. Vedremo, arrivederci. Grazie. Grazie.